Ciao, sono Jonathan Mignotti, lavoro presso il ristorante La Rucola di mia proprietà da 25 anni, esperienze, ho iniziato a lavorare quando avevo 13, esperienze lavorative un po' in tutto il mondo, a partire dal mio paese che è Sierimione, i vari alberghi, quindi Villa Cortino, Hotel Olivi, per poi passare al San Domenico di Imola, poi sono stato a New York, sono partito per una grande esperienza a New York, avevo 17 anni, sono stato là un anno, poi ho lavorato nei vari altri settori ristorativi, da Ducasa a Monte Carlo, a Cognizofa in Germania, sono qui a fare questo corso di formazione per la Fondazione Dante Lighieri, stiamo facendo questo corso, vi spiegherò un po' di tecniche come lavorare il pesce di lago, con delle sue varie varianti, partendo anche dalla semplice anguilla, alla trotto, al coregone, allo storione, con varie tecniche molto semplici, abbinando anche verdure, giocando un po' su questi fattori, anche con delle cose aromatiche, anche con delle cose di liquirizia, di sverificazione e di queste cose. Tutto questo ho dato il mio curriculum abbastanza ampio, non racconto tutto quello che abbiamo fatto, perché dopo mi sono trasferito proprio nel mio locale e da lì è da 20 anni, 25 anni, tutti i giorni lavoro.